Signor Miyagi, crede che avrei potuto vincere? Vincere o perdere non ha importanza. Non è questo che volevo dire. Hai, avevi buone possibilità. Non può guarirmi la gamba con quelle cose che lei sa fare? Non hai più bisogno di combattere, hai dimostrato ciò che volevi. Cosa ho dimostrato? Che sono uno che sa incassare. Ogni volta che incontrerò quei ragazzi sarò sempre quello che è stato abbattuto. Così non troverò mai un equilibrio. Con loro e soprattutto con Eli. E con me. Ai. Chiudi gli occhi. Allora, signore e signori, questo è il momento che tutti stavamo aspettando. Si conf... Daniel LaRusso può tornare sul ringa. È in grado di sostenere l'incontro. Daniel LaRusso sosterrà l'incontro. Daniel LaRusso sosterrà l'incontro. Non vi sembra che questa sia una magnifica notizia? Avremo l'incontro. Come va la gamba, figliolo? Bene, è a posto. Stiamo per assistere al grande evento. L'incontro finale ci mostrerà chi dei due sarà vincitore e campione del torneo di All Valley riservato ai minori di 18 anni. Daniel LaRusso del Miyagi-Do Karate. No, Miyagi, Miyagi-Do. Miyagi, Miyagi-Do Karate. Si incontra con John Lawrence del Cobra Kai. Tre punti vincono. Buona fortuna, ragazzi. Buona fortuna. Coraggio, Daniel. Puoi batterlo. Coraggio. A me. Salutate.